Fox Factory si comincia, si otto il classico. Ciao Stefano. Ciao. Abbiamo trovato un'idea molto interessante di Fox. Praticamente il legislatore dello sportivo transfer adattato come bici da gravel, è ripaggiata con una forcella Fox AX Adventure Cross. E dove sta il comando remoto per il telescopico? Eccolo qua. È piuttosto semplice e molto interessante. Questa è una delle tante idee che Fox sta presentando con Fox Open Project, che è una piattaforma sulla quale loro mostrano i loro progetti di sviluppo. Interessante, molto interessante. Adesso continuiamo qui. Facciamo una carrellata veloce di tutta la gamma 2018 di Fox. Questa qui appunto è la 32 Step Cast AX. E poi passiamo alla gamma 32 Step Cast da Cross Country a tutti gli effetti. L'As è passata con il nuovo Volt On. Può essere Boost e Long Boost. Molto interessante è il nuovo Fox DPS. Questo è specifico per Cross Country e Train Riding. che va a sparare con tuttuna leve. Esatto. Può vedere la diversa combinazione. Andiamo avanti. Qui volendo c'è tutto il merchandising di Fox. Entriamo nella sezione Trail & Grandy con la 34. Sostanzialmente la parte dei pomelli rimane invariata rispetto al 2017. Però qui fuori c'è l'etichetta EVOL che è la stessa che vedevamo sugli ammortizzatori. Stessa la nuova versione dell'EVOL. e dietro abbiamo una bici molto particolare. Che è quella di DCD1. Con la nuova 36. Anche questa qui è già EVOL. Float X2. E passiamo di qua. Questa è stata la prima forcella che Fox ci ha svelato a essere dotata con la camera EVOL. Extra volume. una molla, quindi una novità. La 40 anche al sistema EVOL. E questa fa veramente impressione. Queste qui sono velocissimamente le novità che abbiamo visto qui allo stand di Fox. Ossia tutta la gamma 2018. E adesso ovviamente torniamo nella bolgia della Sea Hawthor Classic che oggi è appena iniziata. A dopo!